Hai dei libri nuovi? Io ho una bambola nuova d'inzecca! È buona! Anche i miei libri, però! Cettate ancora con le bambole, sfigate! È buona! Sei lontana da noi? Immagini di bambini adorabili! Non possono stare qui! E nemmeno voi! Non sono una fan della tua bambola! È molto più carina senza testa! Basta! Smettila! Ehi! I miei libri! Per denti! Le sirene sono sempre di moda! Andrete negli armadetti! Dove è giusto che stiate! Finalmente! Come siamo finite qui? Cos'è? Sbarro! Ehi, facci subito uscire da qui! Silenzio, Incella! E la prima freccetta colpisce il bersaglio! È schifo! Voglio un avvocato! Oro e argento sono finite! Non vedo l'ora che arrivi l'era delle sirene! Sono le creature più meravigliose che esistono! Ho ragione! Cos'è tutto questo rumore? Facci uscire, vero! Cosa facciamo? Come ne usciamo? Che cos'è? Daphne, guarda! Un piano per trasformarsi in sirena! Oh, sì! È il nostro biglietto riuscito! Batti il cinque! Credo che prima dovrei lavarmi la faccia! Ottima osservazione! Ehi, voi! Volete lavarvi? Oh, cavolo! Mancato! Ok! Un altro tentativo! No! Oh, no! Finito l'acqua! Per tanto! Userò l'acqua micellare! Quello è quello che ci vuole? Vedete se riuscite a schivarlo! No! Oh, cavolo! Mi rovinerai il trucco! Perfetto! Fantastico! Abbiamo ottenuto ciò che volevamo! Una pelle pulita e luminosa! Ben fatto! È un vecchio armadietto, quello? Vediamo! Uno scheletro nell'armadio! Stai calma! Ci sono delle cose utili! Oh, a te non serve più la borsa dei trucchi, vero? Ma a noi sì! Wow! Ehi, spero che la guardia non l'abbia visto! Accidenti che odiose! Sirena, torno a te! Vediamo! Fondotinta? C'è! Ma non c'è la spugnetta! Cosa facciamo? Oh, mi sembra di sentire il cinghettio degli uccelli! Wow! Un vero nido! Chissà se c'è qualcosa di bello! Un uovo! Fantastico! Proprio quello che ci vuole! Posso sostituire la spugna? Applichiamo il fondotinta! Il correttore! Il contorno! E un po' di farda! Ora userò la rete! Aggiungo un po' di luminosità per creare delle squame dorate! Ora gli occhi! E le labbra succose! Scommetto che in quest'uovo si schiuderà un uccello stilista! È il mio turno! Ah! La mia mano! Cos'è stato? Ehi! Sono io! Granchietto! Non farlo più! Oh, scusa! Questo è per te! Fluribull! Non c'era altro? Ecco il mio bottino! Proviamo! Applichiamo il fondotinta! Il fard! E il contorno! Ora disegniamo le squame! Adorabile! Eyeliner ad ala! E glitter sul fondo! Ciglia! Il trucco degli occhi è finito! Passiamo alle labbra! Ecco! Favoloso! Grazie, signor Granchio! Sei stato davvero gentile! Perché tutta questa frenesia? Che succede? Cosa avete fatto? Nada! Oh, davvero? Non è cambiato nulla! Lascerò correre! Ehi voi! Pennerello! Grazie! Segniamo il compito completato! Perché è sulla mia spalla! Portalo via! Ho rovinato i capelli con le sue chele! Cosa posso fare? Che disgustoso! Ma non ho scelta! Che parrucca stupenda! Come faccio a procurarmi una parrucca? Ho un piano! Oh, come raggiungo il mocio! Ecco! Grazie, granchietto! Ti piace? Carino? Massima idea! Wow! Bella parrucca! È quella che stavo cercando! Daphne! Ho completato un'altra parte del piano! Fantasco! La coda è la prossima parte! Ma dove ne trovo una? Venite qui! Sto arrivando! Sono la prima! Se pulisci la ragnatela avrai una bella coda! Io dove trovo la coda? Non pianguolare! Guarda! Un regalo! È ciò che penso! Una nuova coda! Granchio! Se n'è andato! Guarda com'è bella! Bellezza al quadrato! Le code sono a posto! Grazie, signor Granchio! Non c'è di che! Signor Granchio! No! Lasciami villana! Daphne! Non lasciare che porti via il signor Granchio! Ragazzi, mettete un like per salvare mister Granchio! Tanti like! Teniti forti, amico! Dammelo! Ce ne servono altri! Continuate! Signor Granchio! No! È mio! Non lo abbiamo salvato! Povero Granchio! Non ci avete aiutato a salvare il nostro amico! Signor Keller! Siete qui! Ragazzi, forse possiamo liberarlo! Prendete il pollice in su! Non verrà nessuno! Non uscirai mai più! Oh! Oh, ragazzi! Affrettatevi! Divertiti lì dentro! Daphne, guarda! Il rubacchio! Fantastico! Ragazzi, aiutateci a rovesciare quel secchio di slime! Ci siamo! Ancora? Siamo vicini! Continuate! Ci siamo quasi! Cos'è quella faccia, eh? Che schifo! Gli slime sono discostosi! Grazie! Siete state voi! Confessate! Noi siamo sempre state qui! Vi tengo d'occhio! Facci uscire! Sono di nuovo con voi! Evviva! Ero preoccupata! Bentornato! Muoio dalla voglia di uscire da qui! Cos'è? Ok, premiamo! Non me l'aspettavo! Cosa devo scegliere? Questo! Oh mio Dio! Niente maglioni divertenti! Dov'è il mio top elegante? Forza! Scelgo te! Da paura! Anch'io avrei bisogno di un nuovo top! Beh, premi il pulsante! Grazie! Niente! Non è una mia responsabilità! Ci riprovo! Devi attivarti in un modo o nell'altro, giusto? Forza! Al lavoro! Il pulsante deve essere finto! Ups! Funziona! Prendo questo top! Grazie! Un altro punto completato! Cosa facciamo con le maniche? Le maniche? Bella domanda! Ecco un'idea! Siamo fortunate che ci siano le tende! Fantastico! Un fantasma! Boom! Spaventata! Dovrai tagliare i pezzi! Ottimo inizio! Incolliamo un bordino! Aggiungiamo le paillette per la decorazione! Ed ecco le maniche! Wow! Posso aiutarti? Splendido! Un selfie per ricordare il momento! E io dove trovo le maniche? Signor Granzia! Hai fatto le maniche per me? Che belle! Proviamole! Che meraviglia! Sono pronta per le foto! E ho le mie maniche! Signor Granzio! Che stai facendo? Scegliete? Ci sono così tante cose! Non è ovvio! La motosega! Ha una pessima idea! Io preferisco la sorpresa! Apriamo! Ai! Il mio dito! Una scheggia! Dobbiamo toglierla! Un cerchietto! Ridammelo! Cos'altro nasconde? Affascinante! Ci sono un sacco di tesori! Quante cose si possono fare con questi oggetti! Dobbiamo darci da fare! Decorerò il cerchietto con conchiglie e perline! Wow! Che bel diadema! Fantastico! Esatto! La mia tiara è quasi pronta! Stupende! Ho trovato un filo di ferro! Ci farò una pinna! Un po' di colla a caldo! E vernice! La pinna sembra vera! Ora posso abbellirla! Fisso le forcine! La mia acconciatura sarà davvero sirena! Wow! Anch'io mi sono data da fare! È uno scherzo della natura! Sei ridicola! Ma non ho altro! Ok, ora ti aiuto! Se proprio insisti! Troverò un modo per sistemare le cose! Badabing! Badabum! Guarda! Sono bellissime! Bene! Ho fatto il colo! Ehi! Cos'hai lì? Un'idea per gli orecchini! Assolutamente no! Alla gola sempre! Mi voglio un sorso! Ehi! Mi serve solo la bottiglia! E cosa? Aspetta e vedrai! Ne taglio dei pezzi! E sciolgo i bordi su una candela! Wow! Incredibile! Dipingo e aggiungo i tentacoli di ferline! Gancini qui dietro! E abbiamo finito! Wow! Mi voglio un chilo! Ok! Chiudi gli occhi! Ecco! Sorpresa! Wow! Sei così gentile! Che ne dici di una collana? Lo so! Possiamo prendere la sua collana! Che fashionista! Ottima decisione, vero? Non ne sono certa! Ma è troppo tardi per tirarsi indietro! Infilo le perline su un filo da pesca! E miglioro un po' la collana! Ecco! Fibi! Sei così avanti! Abbiamo completato un altro compito! Le unghie sarebbero l'ultimo lavoro! Che noia! A me piacerebbe! Sei libera! Aspetta! È io! Non so cosa stia succedendo! Vediamo che farai ora! No! 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 Salve! Vi occupate di ristrutturazione! Voglio alzare il livello della mia vita canceraria! Grazie! Ecco i vostri soldi! Oro puro! Da qua! Lo voglio io! Ragazzi, niente litigi! Ognuno di voi avrà un lingottino d'oro! Grazie per l'aiuto! Ora potete andare! Ragazzi, guardate quanto è lussuosa la mia cella! Ti metti in mostra? Oh no! Guarda! Ti siete lavati i denti? Aprite bene! Ora tocca a me! No, no, no! Non lavarti i denti con quello! Eww! Lode alla fatina dei denti! Preso! Ora posso lavarmi i denti! Ferma lì! Prendo in mano la situazione! Tesoro! Guarda! Ho uno spazzolino d'oro per te! Vieni a provarlo! Solo un secondo! Mamme spiegate! Chi è la migliore mamma di sempre? Guardate com'è bello! Che schifo! Ora non lo userò più! Mi dispiace, ma è come nuovo! Eww! No, grazie! Poverina! Ellie, vieni qui! Guarda cos'ho per te! Uno spazzolino da denti d'argento! Oh no! Ho paura dei dentisti! Oh, scusa! So io cosa fare! Aggiorniamo il vecchio spazzolino da denti! Tocca a me! Ta-da! Ecco il tuo spazzolino! Bel lavoro, mamme! Grazie! La lampadina si è bruciata! Ah, non importa! È buio qui dentro! Ehi, ragazza! Il mio oro brida più di qualsiasi luce! Chiudi quella scatola! È troppo luminosa! Bene! Oh no! Mi sono scottata! Mi dispiace, tesoro! Respira profondamente! Va tutto bene! Ti aiuto io! Non piangere! Wow! Grazie, mamma! Tesoro, ti andrebbe di finire alla sveglia! Il mio braccio non può resistere! Ancora allungo! Lascia che ti sistemi la bronzatura! Grazie! Ora va meglio! E per la luce ho un'idea! Una vecchia racchetta da tennis e un po' di vernice! Ed ecco la base! Ora mi serve un filo di luce! Lo avvolgerò intorno alla racchetta! Poi la metterò in un vaso da fiori! E aggiungo l'acqua! Guarda! Ho fatto crescere una lampada! Oh, mi piace! Grazie, mamma! Non c'è di che, piccola! Hai visto la nuova luce? Oh, sì! Ottima idea! Oh, cielo! Cos'è stato? Scusate, devo avere fame! Dov'è il mio pranzo? Oh, buon appetito! Adoro gli hamburger d'oro! Credo che tu sia allergica a qualcosa! Cosa? Oh, no! La mia faccia! Chi mi ha dato questa polpetta d'argento da quattro soldi? Ve ne farò pentire! Io potrei mangiare, credo! Ma ho solo del tè! Io farò delle ciamalle d'argento! Buon appetito, bronzo! Oh, grazie! Vuoi del tè? Ottimo lavoro, mamme! Sembra delizioso! Hanno anche dei cuori! La vita è così ingiusta! È divertente! Sono sveglia! Accidenti! Cos'è successo ai suoi capelli? Ha bisogno delle trecce? Il mio gadget può farcela! Trecce! Le faccio io! Oh, silenzio! Cerchiamo di risolvere la questione da adulti! Nostra figlia è la cosa più importante! Sì, hai ragione! Oh, il mio gadget non funziona! Accidenti! Ti avevo detto che avrei dovuto fare le trecce! Oh, la spazzola si è incastrata! Ai, che male! Hai fatto male alla piccola! Smettetela! Fate subito pace! Posso salvare la situazione! Ecco delle batterie! Ora! I miei capelli sono bellissimi! Grazie, mamme! Eccellente lavoro di squadra! Siete state bravissime! Oh no! Il mio giocattolo preferito! Bronzo, svegliati! Ellie sta urlando! Avete rovinato il mio giocattolo! Come avete potuto? È orribile! Ti avevo detto che non ci si poteva fidare di loro! Sono arrabbiata con voi! Vieni qui, tesoro! La tua mamma d'oro si prenderà cura di te! Non siamo state noi! Siamo state incastrate! Ellie, guarda il filmato della telecamera di sicurezza! Cosa? Telecamere? Aspetta, non guardare! Non ci avevo pensato! Allora, cos'è successo? Ops! Nessuno sta guardando! Fa' questo! Ops! Non volevo! Però ho finta che siano state loro! Altre impronte! Oh, sono un genco! Chi è la mamma più intelligente di sempre? Io! Mente da stella d'oro! Mamma d'oro! Sei stata tu? Mi dispiace, Ellie! Come hai potuto? Tesoro, vieni qui! Facciamoci due coccole! Chi c'è? Oh, no! Salve, Capu! Agente Ellie! Lo scriverò! Vediamo che succede qui! Sì, signore! Cos'è tutto questo? Quanta polvere! Chi sei tu? Lo scriverò! Il mio Spider-Man! Perché stai urlando? Questo posto deve essere pulito! Ora! È un ordine! Non lo farò! Questa mamma è una causa persa! Ok, va bene! Lo scriverò! Farei qualsiasi cosa per mia figlia! Non ridere di lei! Aiutiamola! Non è meglio lavorare insieme? Vi adoro! Chi lascia cartacce di caramelle ovunque? Non io! Io non mangio quella roba! Ellie, sei tu che mangi le caramelle? Tutto quello zucchero fa male! Ma io ho fame! Dobbiamo dare da mangiare alla piccola! Ecco a te! No! Voglio le caramelle! Niente caramelle! Mangia una merenda sana! Non la voglio! Idea! Metteremo tutto il cibo sano in un frullato! Poi lo metteremo in un bel bicchiere! Oh, che bello! Vorrei mangiarlo! Oh, ottimo! Buon appetito! Portatevi a tutto! Ottimo lavoro! E anche questo! Ehi! Oro! Perché non ci aiuti? Ok! Va bene! Va bene! Sono allergica alla polvere! Credo che abbiamo finito! Ottimo lavoro di squadra! Ora possiamo invitare Ellie al nostro concerto! Nascondetevi, sarà una sorpresa! Wow! Cos'è questo? Sì! Sì! Oh! La nostra ragazza è la migliore del mondo! Questa famiglia è unita ed è tutto merito tuo! Vieni a ballare con me! Una mamma va bene! Ma niente, è meglio di tre! Oh, sì! La nostra bambina! Le mie mamme sono finalmente amiche! Sono così felice! Bella festa! Non posso fermarmi però! Questa stanza è mia! No! È mia! Visto? C'è scritto oro! No, è argento! Ragazze! Stanto ho le chiavi di bronzo! Ok! Controlliamo la nostra stanza! Oh no! Quanta spazzatura! Al lavoro, ragazze! Puliamo tutto! Ho un'idea migliore! Useremo un ascensore! Un cosa? Questo! Ecco fatto! Bye bye spazzatura! Ottimo! Andiamo dentro! Questo posto è così vuoto! Dov'è tutto questo lusso? Prima di tutto abbiamo bisogno di un progetto! Che ne pensate ragazzi? Lo dipingeremo tutto d'oro! Ma prima dobbiamo costruire! Ragazzi! Ehi! Guardate cosa ho trovato! No! È inutile! Come mai questo è qui? È proprio quello che ci vuole! Guardate ragazze! Questo è il nostro modellino! Datemi un secondo! Non sparare! Non sparare! È dietro! Ehi là, Argento! Dai! Vai via! Wow! Ben fatto, Argento! Io dormirò al piano di sopra! No! Io vado lassù! Stupidi metalli! Vincerà chi è più bravo in fisica! Io prendo la cucchetta superiore! Il piano di sotto è mio! Il posto laterale è l'unico rimasto! Non importa! Cogliendove la chimica tornerà utile! Farò dell'argento liquido! Argento prezioso! Eccellente! Siamo pronte a dipingere la struttura! Tutte stanno già dipingendo i loro letti! Andiamo avanti! Voglio provare! Cosa sta facendo? È tutto pronto! Ma l'unica cosa migliore dell'argento è l'oro! Oro! Oro! Che sta succedendo qui? Non volevo! Mi aiuteresti a dipingere, per favore? Va bene, lo farò! Andiamo! Ti sei persa un punto laggiù! Ok! C'è qualcosa di strano qui! Mi serve una scala! Vediamo cosa posso fare! Ehi ragazzi, aiutatemi! Tirete in direzioni opposte! Forza! Tutte insieme! Ha funzionato! Questa è la mia scala d'oro! Ti aiuto io! Tieni la dritta! Ottimo! Uno, due, tre! Sono due! Sono quattro! Ehi ragazzi! Quanti gradini ha la mia scala sospesa? No! State contando male! Ok! Resta qui il foglio d'argento! Ciao argento! Ah! È così bello rilassarsi! Cosa? Il mio argento! Cosa hai fatto bronzo? Colpa mia! Ora è stropicciato! Decoriamolo con il pulle! Sembra fantastico! Grazie bronzo! Aggiungerò un po' di lucentezza argentina! Che bello! Anch'io voglio alcuni oggetti d'arredamento graziosi! Ecco un'idea! Vorrei ringraziare i miei genitori! Devo a loro questo premio! Prendo in prestito il panno! Non guardare campione! A fare fatto! Una medaglia d'oro! Sono un campione! Il velluto rosso fa davvero risaltare l'oro! Oh! Chic! Altri gioielli d'oro! Meraviglioso! Una moneta! So come decorare la testata nel letto! Forza! Ingrandisciti! Ok! Proviamo il portale come ha fatto oro! Prendo in prestito la tua mazza, amico! Cosa? Va bene! Lo farò da sola! Un cerchio perfetto! Oh wow! Prendi un po' di vernice! Ecco! Oh! È proprio quello che ci vuole! Guarda com'è venuto bene! Manca ancora qualcosa! Oh! Grazie mille! Va proprio qui! Come mai ci sono le stelle? Magia dei soldi! Mi piace! Ehi, oro! Troppi occhi indiscreti! Wow, oro! È fantastico! Lo so! Ecco il mio morbido cuscino d'oro! Anche noi vogliamo i cuscini! Fantastico! Ragazze! Ho un'idea! Guardate la mia lavagna dei sogni! I tuoi sogni sono schizzati su di me! Ti dispiace fare più attenzione ai tuoi sogni? Ups! Scusami tanto! Ora dobbiamo solo aspettare che i sogni inizino ad avverarsi! Fatto! No, non ancora! Brunzo! Devi metterla nel modo giusto! Cosa? Carta igienica! Ma come? Guarda la tua lavagna, Brunzo! Evviva! Il mio desiderio si è ammirato! Un promemoria? Oh, oggi è il compleanno di oro! So già cosa regalarle! Qual è il tuo regalo? Carta igienica! Perché non le regaliamo insieme questo lingotto d'oro? Buon compleanno, Oro! Un altro lingotto? Grazie mille! Niente creatività! Non è entusiasta? Ecco un'idea! Oh, sì! Ehi, Oro! Questo è per te! Oh, che bello! Grazie! È un'ottima lampada per il mio mondo d'oro! Regalo, ho azzeccato! Adoriamo lo shopping online! Fate i vostri ordini! Oh, voglio questi orecchini! Cosa devo ordinare? Oh, un bell'anello! Ehi, Brunzo! Ordini qualcosa? Yuhu! Voglio questo! Un cuscino? Ma sei seria? Bene! Dov'è la nostra consegna? Sarai il ragazzo delle consegne? Sì, me lo sento! Il vostro ordine! Yuhu! Questo è tuo! E questo è tuo! Cosa? Orecchini a cuscino! E io ho ricevuto un cuscino ad anello! Non è quello che ho ordinato! Io ho esattamente quello che ho ordinato! Il mio cuscino! Evviva! Devo ritoccare il mio trucco argentato! Avevo uno specchio da qualche parte! Oh, eccolo! No! Questo specchio non è abbastanza bello per i miei occhi! Devo decorarlo un po'! Farò una bella cornice! Ecco fatto! Specchio, specchio delle mie brame! Chi è la più bella del reame? Uh, si adatta perfettamente! Spostati, argento! Ehi, ragazze! Non siate cattive! Ehi! Oh! È l'ora dell'allenamento! Ciao, sport! Mio migliore amico! Lo adoro! Alla mia rivale è forte! Troppo caldo! Questo berretto non va bene per gli allenamenti! Le cose volano via da questa ragazza di bronzo! Ehi, piano! I tuoi gioielli fanno male! Scusate, ragazzi! Aspettate! Metto una mensola! Oh, forse no! Non danno fastidio a nessuno! Sono in debito con voi, ragazzi! E cosa faccio io? Ci sono! Al lavoro! Wow! Che bella palla da discoteca! Oh, wow! Guarda qui, bronzo! Oh! Che bello! Ora possiamo organizzare una festa! Oro! Sono qui! Fare festa è il mio secondo nome! In questo caso, balliamo! Che incubo! Questo posto avrebbe bisogno di una bella pulizia! Dovremmo costruire una stanza segreta qui! Farò uno schizzo di progetto! Ci serve un posto per diamante, rovino e per me! Fammi vedere! Fatto! Che ne pensate? Costruiremo un secondo piano per voi! Il letto sarà qui! E' davvero confuso! Ma dove andate? Ho trovato una scala! E io il materiale! Vi aiuto a pulire! Sbarazziamoci di questa roba! Ti do una mano! Wow! Ce l'abbiamo fatta! Iniziamo a costruire il telaio! Porterò altro materiale! Ci siamo quasi! Sono così pesanti! Vai pure! Se non hai altro da fare! Tieni! Io stringo le viti! Ha funzionato! Posso provare? Certo! Stanno facendo del loro meglio? Ce l'abbiamo fatta! Dobbiamo solo mettere il telaio al suo posto! Muoviamolo! Perché fate tutto questo? Non usate la magia delle gemme? È molto più facile! Provate! Ops! Il piano sopra è il mio! Scordatelo! Quello sopra è il mio! Sasso, carta, forbici! È sempre il sasso! Prima! Oh no! Ti fermo io! Il piano superiore è il mio! Il piano superiore è il mio! Come vuoi! Ma è troppo alto qui! Non posso salire senza aiuto! Mi serve uno sgabello! No! Uno sgabello non serve! È inutile! Diamante! Non ti agitare! Ti faremo una scala! Fatto! Wow! Una vera scala! Qualcosa è andato storto! È ovvio! Devi attaccare la scala! Fatto! Siete così gentili! Il rosso è il mio colore preferito! Riverniciare il telaio è un'ottima idea! E io dipingerò tutto con il potere della magia! Un gioco da ragazzi! Wow! Mi servirà un materasso! Che ne pensi? Troppo dello stesso colore? Oh, mi serve il materasso! Ma quel materasso è mio! Ora è mio! Ridammelo! Non lo farò! Fai pure! Ma ti aspetta una sorpresa! Questo materasso è scomodo! Smeraldi? Ecco perché! Ah, sì! Sono miei! Avrò il materasso più morbido! Oh, cavolo! Ora non ho più un materasso! Non piangere! Anche tu avrai un materasso! Una coperta! Grazie! È stato un piacere! Il mio letto è pronto! Manca qualcosa! Lo so! Proprio quello che mi serve! Ehi, che ne dici di scambiare un anello per il velo? Un vero diamante! A fare fatto! Puoi avere il velo! Il velo fa un bellissimo baldacchino! Aggiungerò delle luci! Questa illuminazione non è sufficiente! Apriamo il portale! Ciao! Prendo il lampadario di diamanti! Certo! Ma chi paga? Questi bastano per dieci lampadari! Sono rinco! Attimo! Perfetto! Anche a me servirebbe un lampadario! Portale! Ancora? Ecco! Perché mi servirebbe la carta igienica? Ecco! Sono stufo dei portali! Ha davvero bisogno di aiuto! Cosa? Non ci sono più diamanti! Mi serve questo! Puoi prenderlo! Grazie! Rubino! Questo è per te! Wow! Grazie diamante! Questa lampada è stupenda! Piacere mio! Come fare una lampada di smeraldi! Incantesimo di crescita! Ha funzionato! Wow! Voglio far crescere anche io una lampada di Rubino! Rubino, trasformati in lampada! Oh no! È fallito! Non preoccuparti! Decoriamo la parete accanto al letto! Facciamolo! Ma che fanno? È più sicuro quando hai un martello! Che rumoraccio! Non riesco a concentrarmi! Ma quando finiranno? Abbiamo finito con la parete! Badabing! Badabung! Abbiamo un microfono! Anch'io amo cantare! Mettiti in fila! Sono insopportabili! Ho bisogno di una tenda per bloccare il rumore! Ora posso leggere in pace! Cantiamo insieme! Ragazze! Ma dove sono? Volevo mostrargli la mia stanza! Sorpresa! Sì!